Benvenuti sul mio canale, allora questa sera usciamo fra la cena, io e il King e i miei genitori, non so a cosa mettermi Sicuramente un pantacollant con una maglietta, ora andiamo a fare la doccia e poi mi vesto Allora raga, questo è l'outfit di stasera Oh, tutti i modelli da raga, eh King, vieni a fare tanto se è bello No, no, che ragazzo Questo è il mio outfit Le scarpe le metterò fuori, ovviamente E andiamo, io ovviamente dieta, quindi carne e verdure Gli occhiali Ecco raga i miei immancabili occhiali Bellissimi, che più di magriscono, che diventano enormi e sono bellissimi E tanti auguri King, brindisi Io il King con l'acqua raga, auguri Cominciamo da focaccia raga, un pezzettino sì L'ho sgraffignata anche io Poi ho mangiato arrosticini raga, mi sembra che erano quattro Se non sbaglio, ora li farò vedere quanto sono buoni gli arrosticini raga E allora vediamo Ah, ecco, quattro, quattro arrosticini raga E vabbè, loro ovviamente sono presi di tutto, eh Questa bistecca che mi sono presa Buonissima raga Che buona Poi vabbè, c'erano patatine, c'è tutto ma io Niente E mi sono presa anche queste verdurine raga Ok, e poi questa è la bistecca che ho lasciato Ciao raga Ciao